Nelle ultime quattro partite avete dimostrato tutta la voglia che avete di andare in Serie A Questi risultati possono rendervi cariche per la prossima partita contro il Torino? Sicuramente, ormai manca poco e quindi c'è due prove fino alla fine Sì, ma poi come fai a non essere carico per una partita come quella contro il Torino? Quindi già lo eravamo a parte dei risultati Credi che le espulsioni di Anania potranno influenzare in qualche modo la partita? No, sicuramente è un evento importante della squadra però anche chi gioca di Mena saprà dare una giusta prova per la contro il Torino Ma no, abbiamo chi può sostituirlo come i verrati nell'ultima partita quindi è uguale Giocherà ancora Caprari o si tornerà al classico tridente Sansovini immobile in Serie A? Questo chiede al mestre, che non lo so Non lo so, magari con Sansovini che entra e segna è meglio Sei ormai diventato il mito della squadra pescarese Molti dei tuoi fan vogliono sapere qualcosa in più su di te Quando hai iniziato a giocare? A 4 anni Chi è il tuo mito calcistico? Dettier Qual è la tua squadra preferita? A Juventus Vorresti entrare a far parte di quella squadra? Beh, mi farebbe così Grazie mille Grazie mille